La FUCI è una federazione universitaria italiana, cattolica. Ritengo che il titoletto politica nell'era della sfiducia, che è quello che riguarda maggiormente questo evento, è molto azzeccato. Perché ormai viviamo in un mondo, possiamo definirlo così, dove c'è stata una perdita dei valori e il relativismo morale è stato sovrastato e confuso con delle false ideologie. E diciamo che i primi complici di tutto questo processo sono gli adulti, i quali dovrebbero essere coloro che dovrebbero dare comunque l'esempio. Mi sono soffermato più che altro sulla figura dei giovani, perché è la figura in cui mi rispecchio io. I giovani non si rispecchiano all'interno dell'ambito della politica, prima per molti motivi, quali disinformazione, ignoranza. Ma non un'ignoranza quasi come offesa, ma proprio un'ignoranza perché vi è proprio una disinformazione di fondo. Quindi si sentono distaccati e lontani e quindi vedono o tutto nero o tutto bianco. Spesso noi giovani ci sentiamo abbandonati quasi dal mondo politico e questo è una delle cause e anche perché, a mio avviso, ma penso avviso di tutti, perché appunto vi è una perdita di credo e di fede all'interno delle figure. Ad esempio non si crede spesso, ormai l'ateismo sta sovrastando la nostra quotidianità. Poi non crediamo più in un corpo di Stato, non crediamo più nelle figure genitoriali, spesso non si crede neanche in un tricolore, ad esempio. Facciamo un esempio, questi sono motivi storici. L'Italia, che è uno Stato relativamente giovane, 150 anni, ha paragone con uno Stato come l'Inghilterra o la Francia, che comunque sono stati consolidati da molto più tempo rispetto all'Italia. Vi notiamo già le differenze sociali da quel punto di vista. Se noi prendiamo un inglese, anche un giovane inglese, se si parla della regina, l'Inghilterra comunque viene elogiata perché è una figura rispettata. Al contrario, in Italia, se noi parliamo di un Presidente della Repubblica qualsiasi, comunque c'è molta indifferenza. Il giovane cattolico ha un compito molto importante, l'importante compito di rimettere tutto all'interno di una carreggiata. La carreggiata è quella della verità. Ad esempio, io in primis, quando vado a leggere una determinata notizia, prima di trarre un giudizio personale, vado a vedere e notare tutte le varie sfaccettature per poi dare un giudizio specifico. L'obiettivo del cristiano è quello di far emergere la realtà oggettiva e di creare sempre una speranza di fondo all'interno delle scelte, scelte quali possono essere quelle universitarie, lavorative, economiche e sentimentali. Ho evidenziato tra tutte le cose positive che il nostro Papa afferma due importanti punti, ovvero l'appello ai fedeli di vincere l'indifferenza, perché l'indifferenza insieme all'egoismo sono i punti, i motori, diciamo, del male assoluto. In particolare l'egoismo, che è la causa principale della degenerazione, a mio avviso, della democrazia. Laddove vi è troppo egoismo, già si può vedere all'interno di una famiglia, se vi è una famiglia in cui vi sono dei membri che comunque pensano solo a se stessi, già la famiglia va a sfaldarsi. È una comunità che è composta da un insieme comunque di uomini che formano una grande famiglia, quella umana, se vivono nell'egoismo, nell'indifferenza, rischiano la caduta totale. Un altro appunto che ho sottolineato è l'esperienza del Papa, è l'esperienza dei magi ci esorta a non accontentarci delle mediocrità, non scandalizziamoci della povertà e diamo valore sempre all'umiltà. Ecco, qui noi andiamo a notare come spesso andiamo a disprezzare quelle che sono le cose più semplici nella vita, quelle che sono le cose più utili, ovvero spesso, a causa sempre dei relativismi danneggiati, diamo valore ad altre cose e idolatriamo altri elementi, altri punti che magari non hanno alcuna importanza nel nostro contesto storico. e volevo concludere con un trafiletto di un autore che ho portato, che è Mauro Corona, un libro che, lo dico in sintesi, tratta di una visione apocalittica della realtà in cui praticamente finite le risorse energetiche nel mondo, vi è un capovolgimento delle condizioni sociali all'interno degli uomini, infatti coloro che si ritrovano ricchi, coloro che erano ricchi e comunque con degli averi, sono coloro che paradossalmente muoiono prima, mentre coloro che hanno ancora le mansioni della semplicità e ancora il carattere appunto dell'umiltà nello spirito, sono coloro che vanno avanti. Qualcuno ricorda gli spot televisivi al tempo delle vacche obese, dove il tonno per essere buono doveva per forza tagliarsi con un grissino, e l'accattivante pubblicità per vendere automobili, birra, pasta orologi, divani semoventi e milioni di oggetti superflui, tutta pacottiglia per catturare creduloni e ingenui, annoiati e troppo pasciuti. Era un tempo di stupidaggini e ingenuità. Adesso i sopravvissuti se ne rendono conto, capiscono di aver dimenticato le cose semplici, belle e sicure, il contatto con la natura, l'uso delle mani, la fantasia inventiva, il sapersi arrangiare senza troppi marchi ingegni. Quindi questo rispecchia totalmente il messaggio che a mio avviso Papa Francesco cerca di infonderci. Grazie. 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 Grazie.